Il dolore del Papa per i naufragi nel Mediterraneo cercavano solo, ha detto, un futuro per la loro vita, il tema dell'immigrazione e dell'accoglienza, questa sera indirettamente su. All'Angelus Francesco ha esortato i cristiani ad ascoltare e mettere in pratica la parola del Signore, come insegna Maria, riconoscendo tutti i giorni la sua presenza. Inaugurati i nove alloggi di edilizia sociale residenziale realizzati dal villaggio del ragazzo al centro Franco Chiarella di Chiavari, una risposta ad un bisogno di assistenza quadruplicato in tre anni. Giornata importante per Portofino, partita l'aula telematica virtuale per i bambi della scuola e consegnato il cantiere alle ditte che dovranno ricostruire la provinciale 227 distrutta dal mare. Iniziato il tour de force sardo per la Virtus Entella, battuta l'Arzachena per 4 a 1, mercoledì recupero sul campo dell'Olbia, in serie di pareggio a sei reti tra Seste Levante e Lavagnese. Buongiorno ai telespettatori di Tigugli oggi. La tragedia del Mediterraneo, la morte di 170 persone che cercavano nella fuga dal loro paese una salvezza e uno dei dolori portati nel cuore da Papa Francesco che ieri mattina all'Angelus ha rivolto un pensiero alle vittime e ai responsabili di questo fatto. Il bilancio dei naufragi nel Mediterraneo è infatti salito a 170, 117 le vittime in quello a largo della Libia, tra cui donne e bambini, 53 i morti nel mare di Alboran tra la Spagna e il Marocco, pochi i sopravvissuti soccorsi e trasferiti sull'isola italiana di Lampedusa e in Marocco. Il Papa ha chiesto la preghiera dei fedeli all'Angelus ricordando anche i tragici fatti avvenuti in Colombia. Sentiamo le sue parole. Cari fratelli e sorelle, oggi ho due dolori nel cuore. Colombia e il Mediterraneo. Desidero assicurare la mia vicinanza al popolo colombiano dopo il grave attacco terroristico di giovedì scorso alla Scuola Nazionale della Polizia. Prego per le vittime e per gli loro familiari e continuo a pregare per il cammino di pace in Colombia. Penso alle 170 vittime naufragi nel Mediterraneo. Cercavano futuro per la loro vita, vittime forse di trafficanti, di esseri umani. Preghiamo per loro e per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo. Ave Maria, piena di grazie, i Signori e i Conti, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. E al tema dell'immigrazione e dell'accoglienza sarà dedicata la trasmissione di questa sera direttamente su Inonda alle 21.10 su Telepace 1 al Canale 15. E prima della preghiera mariana il Papa aveva commentato il Vangelo Domenicale delle Nozze di Cana esortando tutta la Chiesa ad ascoltare e mettere in pratica le parole del Signore come chiesto da Maria. Sentiamo la sintesi del servizio di Radio Vaticana. Aprirci pienamente a Gesù riconoscendo nella vita di tutti i giorni i segni della sua presenza vivificante. Riflettendo sul brano evangelico di Giovanni, le Nozze di Cana, il Papa all'Angelus fa notare come alla festa di un matrimonio abbiano inizio i segni compiuti da Gesù. L'acqua che diventa vino è il primo dei miracoli fatti per rivelare l'amore del Padre. Oggi come allora, riflette il Papa, le parole di Maria ai servitori, qualsiasi cosa vi dica fatela, sono una preziosa eredità che la nostra madre ci ha lasciato. Quando siamo in situazioni difficili, quando avvengono problemi che noi non sappiamo come risolvere, quando sentiamo tante volte ansia e angoscia, quando ci manca la gioia andare dalla Madonna e dire, non abbiamo vino, è finito il vino, guarda come sta, guarda il mio cuore, guarda la mia anima, dire alla madre. E lei andrà da Gesù a dire, guarda questo, guarda questa, non ha vino. E poi tornerà da noi e ci dirà, qualsiasi cosa vi dica, fatela. La cronaca ci porta a Genova, incidente mortale questa mattina in Ansaldo Energia. Un operaio di 42 anni della ditta esterna a GECO sarebbe stato colpito da un pezzo di materiale caduto da una gru. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 nel piazzale interno di Ansaldo. L'azienda si trova ridosso dell'area interessata, al crollo del Ponte Morandi. I sindacati e la RSU hanno proclamato 8 ore di sciopero immediato. L'operaio sarebbe deceduto sul colpo, era sposato, padre di due figli di 6 e di 11 anni. Notizia che abbiamo letto sul sito di Ansa Liguria. Torniamo nel Tiguglio. Sono passati da 146 casi nel 2015 a 658 nel 2018, aumentando di oltre quattro volte i casi di persone appartenenti alle fasce deboli seguiti dai servizi sociali del distretto di Chiavari. I problemi riguardano l'impossibilità di pagare l'affitto per la perdita del lavoro, separazioni, problemi di salute. Una prima risposta ad un bisogno di sostegno sempre più frequente sono i nove alloggi che il villaggio del Ragazzo, in collaborazione con la Regione Liguria e il Comune, ha realizzato all'ultimo piano del centro Franco Chiarella di San Pier di Canne. Questa mattina c'è stata l'inaugurazione. Vediamo. Speriamo che ogni passo in avanti ci inviti a compierne altro. Un passo importante, ma di un cammino che non si deve fermare, per dare risposte concrete a chi è nel bisogno e cerca punti di appoggio per la propria vita. È l'auspicio che il Vescovo Diocesano ha lasciato in consegna alle numerose autorità presenti al taglio del nastro dei nove alloggi di edilizia residenziale sociale, inaugurati al centro Franco Chiarella di Chiavari. Un progetto partito nel 2014 che arriva a compimento nel segno della continuità, a farlo partire prima e completarlo poi, amministrazione di colore politico diverso sia in regione che in comune a Chiavari. Un percorso tra le istituzioni di grande collaborazione e anche di chi fa per passione e con professionalità questo lavoro di assistenza delle nostre categorie più deboli. Le giornate di lume oggi ci ricordano poi dai numeri che vediamo che il nostro paese resta in una situazione di difficoltà, che le persone che hanno bisogno sono molte, che le persone hanno bisogno diversi e hanno ovviamente fornite risposte diverse per tutto questo. Gestita dal villaggio del ragazzo, la struttura è stata realizzata riqualificando completamente l'ultimo piano dell'edificio che ospita il dormitorio cittadino e la comunità terapeutica. Bonificato l'amianto, sono stati rifatti completamente gli interni, gli infissi e le coperture sulle quali sono stati installati i pannelli fotovoltaici. Un milione e 250 mila euro i fondi che sono stati spesi per i lavori, 500 mila gli ammessi alla regione, 600 mila al comune di Chiavari, 150 mila al villaggio del ragazzo. La prosecuzione del cantiere vedrà adesso a breve la realizzazione di una palestra e di una serie di parcheggi. I fruitori degli appartamenti saranno soggetti in situazione di disagio economico e sociale individuati dai servizi sociali. Secondo una convenzione che è già stata stipulata ma che va perfezionata e rivista, quindi non sarà immediato questa cosa perché c'è ancora del lavoro che va. Quando si vedranno i primi utenti di questo servizio? I primi utenti in base ai servizi sociali e alle richieste verranno stillati penso nei prossimi mesi. Si tratta, adesso oggi ne avremo presumo solo uno arredato, altri otto dovranno essere arredati completamente, stiamo facendo gli ultimi pagamenti anche con filse per cui nei prossimi mesi saranno proprio al 100% gratifici. Ci spostiamo adesso a Portofino, giornata importante per il borgo, infatti viene consegnata alle ditte che realizzeranno la ricostruzione della provinciale 227 l'area di cantiere ma è stato anche avviato l'aula telematica virtuale. Ci parla di questo Emanuela Castello che si trova con il sindaco Matteo Viacava. Prendiamo la linea in diretta dalla piazzetta di Portofino, oggi baciata dal sole in una giornata in cui il suo sindaco Matteo Viacava è particolarmente soddisfatto. Sono due le buone notizie che oggi possiamo dare ai portofinesi. Innanzitutto l'apertura di quest'aula telematica al teatrino che potrà far sì che i bambini e i ragazzi di Portofino possano seguire le lezioni anche qua. Sì, stamattina è stata una grandissima emozione per me perché alle 9 sono andato ad aspettare i ragazzini di Portofino che andavano a scuola e devo dire la verità che come sempre riescono a trasmettermi un grande entusiasmo. Come nei tempi brutti dopo la mareggiata ci trasmettevano la forza di andare avanti coloro andavano a scuola col battello con qualsiasi mare e avevano la gioia e entusiasmo di andare e mi trasmettevano a me l'entusiasmo di affrontare la dura giornata che ci aspettava. E come in quel periodo lì ci siamo detti, andiamo a fare qualcosa per questi ragazzi quando c'è il mare agitrato, il mare mosso non possiamo lasciargli andare sempre tutto l'inverno perché il problema è un lato positivo che è caduta la mareggiata nel periodo invernale, che abbiamo tutto l'inverno per poter ripristinare la strada, però da un lato i ragazzi dovevano affrontare il periodo più brutto dell'anno andando via mare. E allora è venuta questa idea, sentendo con l'assessore al turismo Ilaria Cavo e la signora Betty Tassara, assessore alla scuola di Santa Margherita, lì vi ho detto ma perché non realizziamo questa aula telematica al teatrino? E' detto, è fatto. Oggi hanno fatto la prima lezione. Sono molto contento anche da portofinese perché l'ultima lezione che si è svolta a Portofino, io ero alunno, era 30 anni fa, più di 30 anni fa. Allora vedere queste cose qui fanno anche pensare che nelle disgrazie a volte, chissà, un domani potergli avere di nuovo l'asilo e le nostre scuole qua a Portofino. Ci lavoreremo col cuore, la tecnologia può aiutare anche avere dei costi minori con un insegnante, con i pc, come è stato realizzato oggi. Chissà che un domani questa mareggiata non abbia lasciato dentro di noi anche delle idee per migliorare la vita di tutti i ragazzi e poi vedere Portofino di nuovo come desidererei io, come desiderano tutti i portofinesi, ricca di bambine e piene di persone. E un altro segnale di speranza all'inizio ufficiale dei lavori per rifare la strada. Sì, ci abbiamo sempre creduto. Ringrazio i lavoratori che hanno lavorato fino ad oggi, la vecchia ditta, ora c'è stato il nuovo appalto della nuova ditta, abbiamo accolto le nuove ditte che sono tra l'altro ditte nostre, genovesi, è un piacere anche perché comunque nelle disgrazie i soldi che poi vengono spesi rimangono sul territorio, è un altro piacere. Io ringrazio città metropolitana, regione Liguria, tutte le istituzioni, Capitaneria, la Perfettura che ci sono stati vicini in questo momento veramente difficile per noi qua di Portofino. Adesso abbiamo sempre detto che dopo l'accensione dell'albero avremmo visto il domani con un entusiasmo migliore. È stato così. Oggi andiamo a festeggiare anche la consegna della seconda parte dell'otto, tanto lavoro è già stato fatto e direi che avendo fatto un incontro con le prime aziende che sono persone che mi sembra che vogliono lavorare al meglio e nei tempi brevi possibili di mantenere la conferma di dire la strada c'è, è aperta per Pasqua. Perciò programmiamoci tutti i lavori che dobbiamo fare, i privati, noi come Comune, perché Portofino per la stagione turistica sarà come e più bella di prima. Siamo in studio, si è chiusa ieri l'edizione 2019 della Fiera di Sant'Antonio di Chiavari, oltre 60 mila le presenze stimate nei due giorni della manifestazione che ha visto invadere il centro città con 500 bancarelle. Soddisfazione per il buon esito viene espresso da Confesercenti Liguria che ringrazia l'amministrazione comunale per la collaborazione. I risultati sia dal punto di vista organizzativo, commerciale ed immagine e sono stati positivi dalla gestione delle singole problematiche dei banchi alle aree di parcheggio supplementare che vengono allestite in occasione della manifestazione. Questo il commento di Roberto Zattini, presidente Anva Confesercenti, provincia di Genova. Sarà necessario lavorare ancora per armonizzarsi integralmente alla normativa e superare una serie di problemi tecnici e pratici non da poco, commenta Daniele Mignacca, referente dell'Anva per il Tiguglio. Per esempio la ristrutturazione di un impianto elettrico a servizio di tutti e 520 i banchi, il miglioramento ulteriore della collocazione perché ovviamente alcune aree nuove come via San Francesco non hanno avuto lo stesso passaggio dei percorsi principali noti alla gente. Dobbiamo cercare di valorizzare al massimo le nostre imprese e la città, idem per la fiera del 2 luglio per la quale siamo a disposizione da subito per lavorare insieme all'amministrazione così come appunto per l'edizione 2020 della fiera di Sant'Antonio. Questo il commento del portavoce di Anva Confesercenti del Tiguglio. All'ente forma di Chiavari domani dalle 14 alle 17, ultimo Open Day dedicato alle famiglie e ai ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della formazione professionale. Sarà l'occasione per conoscere meglio il percorso triennale di istruzione e formazione professionale operatore di impianti termoidraulici e per effettuare visite guidate alle aule e ai laboratori dedicati ai ragazzi che frequentano questo corso. E nel sesto anniversario della partenza per il Paradiso di Don Giancarlo Crovetto, gli amici del sacerdote si incontreranno domani martedì in seminario a Chiavari per un momento di condivisione e di preghiera. Il ritrovo alle 18.30 nella cappella del seminario dove si svolgerà la Santa Messa seguirà la pericena nel vicino salone. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi e ci rivediamo dopo per i servizi di sport. Corriere della Sera, titola Migranti, pressing sui libici, nuovo SOS, 100 a bordo, Conte chiama i naufroghi riportati verso Tripoli e nella notte appunto è accaduto il salvataggio e però i migranti sono stati riportati in Libia. Sento solo frasi velleitari per sfruttare gli sbarchi, così dice il commissario per i rifugiati dell'ONU, Filippo Grandi, possiamo porre fine a queste tragedie solo avendo il coraggio di non pensare unicamente al prossimo sbarco. E andiamo avanti, flat tax al 15%, rivoluzione rompi capo, le partite IVA alla prova. Sotto invece due grandi dello sport che danno il loro addio, Von, regina della neve, il corpo non segue più, lungo addio di Federer, come sarà dopo di lui? Quelle imprese ancora vincenti nonostante tutto, così titola la data room di Milena Gabanelli, sono 1632 le imprese manufatturiere che nonostante tutto hanno aumentato i loro dipendenti e sono a volte anche piccolissime. Omicidi Rossi e Alessandrini parlano i figli 40 anni dopo, vediamo appunto le interviste sul Corriere della Sera di oggi, l'anniversario Rossi e Alessandrine, i papà uccisi e terroristi stagione chiusa, ma ora vogliamo la verità, i figli delle vittime con quei due delitti cambiò la lotta armata, 40 anni dopo uno dei killer dell'operaio è ancora latitante. E appunto la figlia di Guido Rossa dice io non cerco vendetta ma non è giusto che un colpevole non abbia scontato neanche un giorno di condanna all'ergastolo. Vediamo il secolo XIX, Di Maio pronto a sbloccare le grandi opere, ma no alla TAV, patto sulle nomine, Conso Bainz vanno a Movimento 5 Stelle, Salvini vuole Zaia, commissario a Bruxelles. E per la politica interviene anche l'ex presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, come nel 48 se non stiamo insieme non ci sarà un futuro. E lo sport, Sampa raggiunta Firenze 3 a 3, Quagliarelli è il fenomeno e capo cannoniera 35 anni, Mancosu, Matador, Lentella fa poker con l'Arzachena. E leggiamo ancora in Liguria l'obiettivo, Genova punta a fare più multe ma i comuni Liguri non la seguono. Un milione per riqualificare il commissariato e la piscina, i progetti a Chiavari, vediamo nelle pagine del Levante, progetto da un milione per la piscina, pellicola fotovolcata sulla facciata, approvato l'intervento che ammodernerà, risamerà e riqualificherà l'impianto natatorio di largo pessagno aperto nel 2003. Il commissariato cambia look, involucro edilizio, nuovo tetto, corso brizzolara, tutti gli interventi saranno eseguiti senza interrompere l'attività degli uffici e dei servizi della polizia. E sempre dal secolo XIX per la politica, congressi PD nel Tiguglio, Zingaretti la spunta per soli due voti, al voto oltre il 70% degli iscritti al partito, decisiva le scelte dei votanti a Sestri Levante e Santa Vittoria di Libiola. Ora andiamo in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti, è pronta Cristina Neto? Sì grazie Andrea, saluto a tutti i telespettatori, si è svolta questa mattina a Coreglia Ligure la commemorazione della giornata della memoria, come sapete ormai è una tradizione che si rinnova ogni anno nei pressi di quello che era il campo 52, dove 29 persone prigioniere furono trasferite, prelevate dal maresciallo Max Albinger per iniziare il loro viaggio verso Auschwitz. In questa occasione viene ricordata la più piccola delle vittime di questo tragico avvenimento Nella Attias di sola sei anni, ricordiamo appunto la data è quella del 21 gennaio 1944. Non era presente il rabbino capo, in sua sostituzione è venuto Ruben Colombo, stiamo vedendo in queste immagini, che ha tenuto l'orazione pubblica, poi ci sono state le varie commemorazioni con la posa di corona al monumento dell'uguaglianza, la cerimonia di messa a dimora dell'ulivo della pace e questa mattina gli studenti dell'istituto agrario Marsano hanno prelevato 20 pugni di terra proprio da questa area dove sorgeva un tempo il campo di prigionia e l'anno, come stiamo vedendo in queste immagini, hanno prelevato 20 pugni di terra a significare le vittime di questo tragico fatto e questa terra verrà poi trasferita ad Auschwitz proprio in ricordo di questo tragico avvenimento. Torneremo in maniera più diffusa nel telegiornale di questa sera, intanto ricordo che sempre nell'ambito delle iniziative per la giornata della memoria, oggi pomeriggio alle 17 all'auditorio San Francesco di Chiavari sarà presente il giornalista Gad Lerner proprio in un incontro che viene organizzato tra gli altri anche dall'Ampi. È tutto lì nello studio. Grazie Cristina, ricordiamo che anche all'ascito cuneo, questo pomeriggio alle 15, sempre nell'ambito delle commemorazioni del giorno della memoria, all'ascito cuneo di Calvary alle 15 la professoressa Giovanna Bonini racconterà la storia di Clara e Lili Soria, due sorelle genovese di religione ebraica salvate dalla deportazione grazie al coraggio degli abitanti di Fontana Rossa, un piccolo paesino della Val Trebbia. Veniamo adesso allo sport, iniziamo con il calcio, la Lega Pro, vittoria netta della Virtusentella sul campo dell'Arzachena, nella ventudesima giornata del campionato di Lega Pro i biancocelesti hanno battuto per 4 a 1 gli avversari con una doppietta di Mancoso, a rete del 14esimo al 45esimo, il gol di Mota Carvaglio e un autorete di Baldano al 69esimo. Annulla e Valso il temporaneo pareggio di Cecconi al 31esimo, Virtusentella che si porta a 33 punti in classifica e che disputerà la prossima gara mercoledì alle 14.30 ad Olbia. Sentiamo l'intervista, fine partita. Una trasferta difficile contro una squadra che ha giocato molto aggressiva, molto sulle seconde palle, ci ha reso la vita veramente complicata, in un campo proibitivo tra virgolette perché comunque è un campo che non ti fa giocare in maniera fluida ma lo sapevamo, quindi abbiamo fatto una partita molto aggressiva ribattendo colpo su colpo, abbiamo molto lavorato sulle seconde palle e sulla verticalizzazione immediata e loro lì hanno sofferto un po', ma dopo il vantaggio hanno ripreso la partita e quindi abbiamo dovuto ricominciare un po' il tutto, siamo stati poi molto bravi, ripeto, spesso a verticalizzare, ad essere molto aggressivi un po' come loro, poi fino al primo tempo la partita si è messa bene, nel secondo mondo abbiamo gestito molte situazioni, anche se loro spesso su palla lunga ci hanno messo un po' in difficoltà e poi l'autorete del 4-1 ha chiuso definitivamente la partita, ma non è stata una partita facile sicuramente. Siamo contenti di questa vittoria, è sicuramente un campo difficile, sono contento per l'esordio con i due gol, dobbiamo solo prendere tre punti in questo campo perché credo che tante squadre abbiano problemi da qui alla fine del campionato, l'Arzachena è una squadra che non mola mai, si è visto soprattutto nel primo tempo, poi due gola fino al primo tempo magari li ha un po' stabilizzati, però credo che abbia le carte in regola per lottare per la salvezza fino alla fine. Abbiamo altri tre giorni qua in Gallura e ci alleneremo sicuramente perché dobbiamo dare continuità a questi risultati, questa vittoria se ne seguirebbe un'altra sarebbe veramente un bel bottino per noi e tornare a Chiavari con 6 punti in tasca non sarebbe male. Conosci bene molti giocatori dell'Olbia, qual è la valutazione della squadra bianca? L'Olbia è una buona squadra, anche loro sono impelagati nelle zone basse della classifica però hanno giocatori di tutto rispetto, quindi sarà una parte dura e speriamo di portarla a casa. Veniamo adesso alla Serie D, 6 reti nelle derby del Tiguglio che proponeva la ventesima giornata del campionato del girone A. Sesti Levante e Lavagnese, infatti è finita con il risultato di 3 a 3 con i Corsari in vantaggio, riaguantate dai bianconeri. Le reti all'ottavo del primo minuto di gioco, dell'ottavo minuto di gioco in vantaggio i padroni di casa con Croci, il raddoppio arriva al quattordicesimo, porta la firma di Melli. Prima dello scadere del primo tempo, al ventitresimo, Basso accorcia le distanze per la Lavagnese. Le due squadre vanno negli spogliatoi con il parziale di 2 a 1 per il Sestri, nella ripresa è ancora Croci che sigla la terza rete Corsara all'ottavo del secondo tempo. La reazione del Lavagnese arriva al quindicesimo della ripresa con la rete di Purro e al trentasettesimo Onetto sigla il definitivo 3 a 3. Un punto a testa dunque per Lavagnese e Sesti Levante che vanno rispettivamente a 25 e 23 punti in classifica. Nella prossima giornata di campionato il Sestri Levante ospiterà la Folgore Caratese mentre la Lavagnese sarà in trasferta sul campo del Milano City. E vediamo, abbiamo visto i gol di questo derby del Tiguglio. Vediamo la pallanuoto per la Serie A 1 femminile. Nella nona giornata le ragazze della Rappallo pallanuoto hanno battuto il Kelly N.C. Milano per 16 a 7. Giallo blu sempre in vantaggio in tutti e quattro i tempi parziali. Circa 150 gli spettatori presenti alla piscina del Poggiolino di Rappallo. La squadra chiude il girone di andata al secondo posto in classifica nel campionato A 1 femminile. E per il campionato di Serie A 2, sempre per la pallanuoto, vittoria rotonda per il Lavagna 90 chiamato ad affrontare la trasferta nella vasca del Civic Tavecchia. La partita è finita a 12 a 8 per i lavagnesi che si portano a 12 punti in classifica. Per il campionato di Serie B maschile, nella seconda giornata del girone 1, si registra la sconfitta del Chiavari e la vittoria del Rappallo. Vediamo i chiavaresi impegnati nella vasca dell'ERIC Sport e sono stati battuti dai padroni di casa per 8 a 6. A penalizzare la squadra verde-blu, la prima frazione finita per 4 a 1 per gli avversari. La Rappallo nuoto invece ospitava il Sestri. La partita disputata nella piscina comunale di Camogli è finita a 6 a 3. Il Rappallo giunge a quota 4 punti in classifica dopo il pareggio della scorsa settimana nel derby Tigullino con il Chiavari nuoto che invece resta fermo a quota 1 punto. E con lo Sport si conclude questa edizione di Tigulli oggi. L'informazione torna questa sera a 19.15. Continua sul nostro sito www.teleradiopace.com e sul canale 187. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Grazie per la visione!